Buona sera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro appuntamento live del venerdì l'ultimo della settimana con bitcoin che ci tira uno scherzetto non lo so è lì che non si capisce se questo il time eye è vero è falso se è un falso break che intenzioni ha insomma ci stiamo tutti domandando questo o almeno credo stando alla quantità industriale di messaggi che mi avete mandato oggi contenenti proprio le stesse parole ovvero ma questo è secondo te un fake out oppure stiamo ritracciando per ripartire ragazzi come al solito io non ho la sfera di cristallo possiamo ovviamente fare qualche osservazione sul macro del mercato e chiaramente la faremo e lasciate che vi dica la mia mi sembra un pelino presto per disperarsi perché se da un lato è vero che questo oltai mai che abbiamo fatto per il momento è durato poco perché guardate come sono le dinamiche le dinamiche sono che un paio di giorni fa abbiamo rotto vedete i massimi storici superando i 65 mila li abbiamo attaccati pam abbiamo pescato liquidità e il giorno dopo non c'è stato retest non c'è stato niente c'è stata una candela engulfing bearish dell'ultimo giorno che ci ha riportati sotto anche alla vecchia chiusura quindi non solo sotto all'all time high che a 65 mila e qualcosa ma anche sotto alla chiusura 63 mila e 8 e quindi questo sicuramente non è una conferma non ancora perlomeno però non è che c'è solo il bianco o il nero ovvero o facciamo il time high confermiamo e continuiamo a correre immediatamente oppure è un falso breakout e quindi invertiamo la rotta ma in mezzo c'è tutta la famigerata scala di grigi in particolare facciamo attenzione ai livelli chiave anche su un time frame un po più ampio e anche alla chiusura del settimanale perché se da un lato questa candela settimanale non sarebbe proprio bellissima diciamo la verità però se chiudessimo così saremmo comunque guardate sopra ai 60 mila che è il vecchio il time high settimanale quindi ragioniamo anche su un time frame più ampio quando abbiamo dubbi il mio consiglio è di guardare dall'alto di allontanarsi un attimo dal grafico e guardare un time frame che sia un po più completo un po più che contenga più informazioni come appunto il settimanale stesso questo grafico ci rivela che innanzitutto siamo ancora guardati in all time high in primis la candela che stiamo vedendo chiudersi in questa settimana è una candela di forte indecisione vedete abbiamo molta shadow soprattutto la upper shadow perché abbiamo fatto appunto il movimento rialzista subito assorbito va a condensare in un'unica candela settimanale quello che abbiamo visto nel giornaliero e adesso dobbiamo vedere la chiusura in particolare abbiamo un'area che dobbiamo tenere d'occhio molto bene che è quest'area ne avevamo anche accennato nell'ultimo video dove avevo fatto mi ricordo avevo saltato la live l'ultimo mercoledì per per un impegno improrogabile ve l'ho detto un calcetto di cui soffro ancora ora perché non giocavo calcetto da una vita e nonostante gli allenamenti una cosa e l'altra ragazzi sono una ciofeca c'è poco da dire e al di là di questo avevamo identificato questa zona che sono i due scorsi massimi guardate 1 e 1 2 settimanali come una possibile area di eventuale retest se vogliamo andare appunto a riprendere un attimino fiato fare una sorta di storno un piccolo storno una bear flag chiamiamola come vogliamo bull flag scusate non bear flag ma insomma andare a riprendere un attimino d'aria per poi eventualmente ripartire rialzo è inutile che vi dica che la struttura non è bearish non è neanche minimamente bearish quindi non facciamo ripeto del panico in anticipo perché non è assolutamente il caso la struttura è bullish i volumi guardate sono crescenti nella nel tempo quindi adesso stiamo aggredendo i massimi e con l'aggressione ai massimi abbiamo i volumi anch'essi ai massimi storici quindi direi che non c'è motivo per essere spaventati teniamo d'occhio eventuali aree di retest perché ripeto non è che dopo che si fa l'altime ai bisogna per forza salire e basta ed è questo il motivo per cui a me non piacciono i breakout trade ve l'ho detto tante volte perché entrare a breakout è un rischio notevole di entrare ai massimi si può entrare a breakout magari se si va a cercare il trade intraday quindi quella speculazione rapida basata su un grafico molto più breve ma se si entra breakout per dire beh quando va quando rompe delle resistenze o fa nuovi massimi sale sempre allora ci si espone a un rischio notevole perché di fatto stiamo comprando i massimi quella è l'unica certezza che abbiamo quindi massima attenzione soprattutto al retest ma adesso questo ce lo teniamo per la fine perché i grafici come sempre fanno parte della zona finale della nostra live adesso ho un po di notizie da condividere con voi alcune anche molto interessanti e poi voglio recuperare un po quello che abbiamo mancato l'ultima volta ovvero le domande stesse le vostre o meglio domande stesse quindi tenetevi carichi perché vi darò chiaramente la il peso maggiore in termini di tempo di questa live notizie in maniera molto rapida in modo molto rapido così poi passiamo a voi uno parliamo di terra la prossima settimana ci sarà la proposta alla governance di terra per bruciare i 90 milioni di luna quelli nella community pool vi ricordate il discorso di del passaggio da columbus 4 a columbus 5 questo passaggio tra le varie cose prevede il non detenere più i luna nel community pool per generare gli ust perché prima cosa accadeva quando aumenta la supply di ust una parte di luna che si usa come collaterale si brucia e l'altra parte vola nel community pool adesso con columbus 5 si brucia e basta questo è l'upgrade i luna che sono già che erano nella community pool verranno bruciati nella c'è verrà proposto di bruciarli in questa proposta numero 44 per quale motivo per creare un pool di ust per ozone che secondo me è uno dei protocolli più interessanti del mondo terra ed è un passo avanti enorme nella defi che cos'è ozone è un protocollo di insurance assicurazione nativo terra che prevede proprio l'assicurazione dei vari protocolli defi su terra con integrazione diretta quindi adesso cosa si fa si deve utilizzare più protocolli insieme esempio che me lo chiedete spesso anche questo perché molti di voi sono magari esposti ad anchor e dicono ma io mi voglio tutelare dai rischi di anchor è possibile farlo ma bisogna utilizzare strumenti terzi ad esempio insurace che a me piace molto come come piattaforma guardate ve lo mostro subito come funziona allora vedete ci sono le assicurazioni da acquistare tra cui vedete ci sono i bundle esempio anchor più ust the peg per proteggersi sia dal rischio smart contract di anchor che dalla perdita del pack di ust così se ust dampa perché succede un disastro una catastrofe un cigno nero sistemico che fa collassare il sistema luna siamo coperti il problema qual è che innanzitutto vabbè sold out è disponibile su avalanche quindi in realtà non è sold out dappertutto e comunque se si utilizza due piattaforme si usa anchor quindi terra più insurace in questo caso su avalanche e quindi è un po più come dire complicato da ottenere mentre l'obiettivo di ozone sarà proprio semplificare il concetto di insurance molto valida come cosa molto interessante e dunque torniamo a noi un'altra cosa interessante immediatamente utile per la per un discorso di mere tokenomics è il fatto che si bruciano 90 milioni di luna non so se avete capito la portata di questa cosa il 10 per cento della supply più o meno bruciata disintegrata e si vanno a creare altri 3 4 miliardi circa di ust questo è il prospetto di ciò e bene basta e poi ecco e ci saranno un sacco di swap fee che andranno a incrementare gli staking reward di 5 volte questo penso in maniera localizzata perché comunque vai a generare come dire volumi proprio per questa specifica operazione quindi gli staker di luna sicuramente godranno in questo periodo io ve la butto lì perché è una cosa che vale la pena sapere soprattutto se seguite luna se seguite luna e terra e utilizzate anchor un'altra cosa che volete sapere dovete sapere è che il borrow su anchor è quasi a saturazione quindi fate attenzione rivedete bene i vostri calcoli sugli apy effettivi perché al momento il borrow paga poco più dell'uno per cento e visto che i volumi di borrow sono sempre in crescita ormai stanno terminando le distribuzioni e sono sature le distribuzioni di di hank perché sapete come funziona qua funziona che voi quando prendete in prestito ust collateralizzando bet o bluna quello che accade è che voi pagate per il borrow non è che è regalato e mi raccomando sappiate bene queste dinamiche questo funzionamento perché sono fondamentali non è che poi quando dovete ripagare il debito di tommo come ma il debito è più alto adesso per quale motivo mi raccomando quando voi depositate un collaterale prendete in prestito 1000 ust ad esempio alla fine dell'anno ne dovrete ridare 1257,7 perché c'è il borrow apr del 26 per cento che si va ad accumulare sul vostro debito che cresce questo viene risanato dal fatto che vi vengono distribuiti annualmente il 27 per cento in hank che poi li andate a recuperare dalla vostra my page c'è la il claim di hank nelle reward e poi li potete dampare convertire in ust avete quello insomma quelli gli ust in più per ripagare il debito ma sappiate che il debito cresce e voi venite pagati in hank questo mi raccomando mettetevelo ben in testa perché ho visto che non è chiaro a tutti al momento siamo lì ok la distribuzione di hank è l'uno per cento in più rispetto al borro di apr quindi potrebbe se continuiamo in questa direzione insomma non convenire più così tanto tutta quel percorso di collateralizzazione e quindi fate bene ripeto i vostri calcoli e valutate questo dal lato earn non è cambiato nulla invece abbiamo un apy sempre del 19 mezzo per cento procediamo poi con popsicle finance che lancerà nelle nei prossimi giorni dov'è che c'era scritto in just within just a few days quindi lancerà tra poco popsicle finance è uno yield optimizer per uniswap v3 uniswap v3 in sostanza va a concentrare la liquidità in uno specifico range non è su tutta la curva come accade con uniswap v2 se qualcuno di voi ha mai provato a dare liquidità su uniswap v3 ha visto che gli fa scegliere anche il range della liquidità quindi in sostanza ci si va a esporre esattamente in quel range di liquidità lì solo che se poi il prezzo esce o si sposta altrove noi smettiamo di raccogliere commissioni perché di fatto non siamo più esposti e quindi questo cioè popsicle finance ha proprio lo scopo di ottimizzare la liquidità che si fa si va a dare andandola a spostare di volta in volta per seguire il trend del prezzo questo non sarà l'unico scopo di popsicle perché abbiamo visto che insomma è molto ambizioso come progetto puntano anche a farlo su terra puntano ad estendersi anche integrarsi con abracadabra insomma ci sono un sacco di cose in arrivo e faranno un sacco di audit soprattutto hanno detto che vogliono puntare molto su quello perché di fatto c'è stato un exploit nella vecchia versione di popsicle sulla quale però hanno fatto un piano di compensazione che ripagherà completamente tutti gli utenti quindi si sono alzati molto bene questo ve lo volevo dire perché vale la pena seguirlo come progetto popsicle secondo me è molto interessante e ovviamente lo andremo ad analizzare quando a tempo debito poi dunque l'analisi on chain la lasciamo per dopo dai la aspettiamo un attimo ma no facciamolo subito l'avevo messa qui quindi facciamola subito analisi on chain in particolare non vi voglio dire chissà che cosa perché ovviamente adesso tutte le metriche sono particolarmente bullish non ho guardato le statistiche degli exchange quindi guardiamole insieme queste e mi aspetto che ci sarà del gran traffico però vediamo gli inflow e gli outflow in particolare se ci sono state delle grosse dei grossi movimenti da e verso gli exchange vediamo un attimo e ok 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 inflow in aumento attenzione attenzione outflow outflow in calo quindi il netto il flusso no non è vero perché ha in calo in percentuale ci sta il flusso netto sembra essere negativo quindi anche in questo periodo guardiamo nei sei mesi non particolarmente negativo diciamo che non sono valori dei miei di nota però anche in questi giorni in cui abbiamo fatto l'all time high guardate abbiamo comunque un netto di flusso dai verso gli exchange soprattutto in uscita quindi è più probabilmente un una fase accumulativa o almeno sembra certo ripeto non sono numeri folli da far urlare al wow tutti stanno prelevando sono numeri piccoli però interessante vedere che non è che c'è l'all time high e tutti depositano per dampare ecco questo sicuramente è una metrica che vale la pena sottolineare quella invece sulla quale richiamo soprattutto l'interesse è questa le nostre hoodl waves famose che vanno a mostrare quello che è vedete il range in in spessore cioè quanti bitcoin vengono detenuti per un certo periodo di tempo la cosa interessante da esaminare su questa metrica è la sua variazione cioè vanno a crescere o a decrescere gli holder di lungo periodo e quelli di breve perché questo ci fa capire come si stanno muovendo in particolare l'attenzione è da richiamare secondo me sulla fascia 6 12 mesi che finora guardate c'è un trend palesemente crescente non ancora arrestatosi primo punto importante il secondo punto importante sarà come si comporta adesso perché guardate invece il 3 6 mesi e l'uno tre mesi sono andati a confluire uno nell'altro questo ci dice che chi ha comprato in sostanza in questa zona soprattutto inizio anno e prima quindi tra insomma fino ai 20 30 mila la prima parte diciamo pre ultima leg up di volta in volta mantenuto e vedete che infatti da 1 3 mesi diventano 3 6 mesi poi diventano 6 12 il che significa che hanno holdato nel tempo quindi se adesso questo trend si dovesse invertire ora con i nuovi oltai mai quindi chi ha comprato in quel tempo lì un anno fa considerate adesso siamo praticamente in novembre un anno fa eravamo a 13 mila circa quindi chi ha comprato un anno fa che adesso è dentro questa fascia se inizia a vendere dovrebbe assottigliare questa fascia attenzione quindi ricontinueremo a guardare esaminare da vicino questa metrica proprio per capire se coloro che hanno acquistato in quella fascia di prezzo hanno intenzione di scaricare o no e ve lo condividerò chiaramente di volta in volta questo è il bello comunque dell'analisi on chain il poter andare a esaminare queste cose poi andiamo avanti con unstoppable domains allora unstoppable domains me lo sto studiando un po in questo periodo e è super interessante come concetto sono arrivato tardi e un po mi dispiace di non avervene mai parlato ma ho visto questa notizia che mi ha attirato ed è da lì che poi ho approfondito che unstoppable domains in sostanza è la possibilità di sono dei domini di fatto punto crypto punto bitcoin punto qualsiasi cosa ad esempio non lo so proviamo a cercare bel progetto vediamo cosa salta fuori guardate che bello bel progetto punto crypto per 40 dollari cioè adesso lo registro e faccio subito una token sale domani bel progetto punto nft bel progetto punto bitcoin wow fantastico no scherzi a parte vedete questi sono i domini di unstoppable domains che differenza c'è con i domini normali semplice sono unstoppable ovvero i domini normali sono censurabili sono che ne so decrypto gateway punto it se a google gli sto sulle balle o al dns di turno che è colui che gestisce i nomi dei domini gli sto sulle balle mi blacklist e non non sono più visibile mentre questi sono degli nft e sono fatti proprio per essere non censurabili modificando il dns si può andare a utilizzarli anche per costruire siti web quindi puntano anche a siti web e poi ci si può integrare varie dep ci si può integrare i portafogli quindi wallet le gallerie di nft avranno sempre più utilizzi nel futuro secondo me è uno dei mercati nft più intelligenti e utili che esistano e quindi adesso ho iniziato a seguirlo e a capirne di più e davvero più più ci scavo dentro più diventa interessante anche da un punto di vista di non lo so andare qualche dominio ottenerlo perché no e poi ecco la notizia che vi volevo dare che salta su polygon fino ad ora è stato su ethereum il che vuol dire che nel momento della creazione del dominio collegamento del dominio con il vostro wallet con qualsiasi operazione si fa insomma ti parte la sassata di gas fee adesso passa su polygon quindi gas fee pressoché inesistenti la cosa bella è che si potrà anche migrare poi il i domini già posseduti per chi li ha già acquistati dal layer 1 al layer 2 ci sono quattro fasi la prima dal 15 di novembre prossimo si potrà fare il claim per l'appunto su polygon quindi non ancora 15 novembre dal 29 novembre si potrà gestire i domini su layer 2 quindi vedete collegare i wallet costruire i siti web galleria nft tutto ciò che si può fare con questi domini e poi si potrà migrare da layer 1 al layer 2 e viceversa in fase 3 e 4 è veramente interessante questo mondo lo sto approfondendo tantissimo non ho ancora il referral link da scillarvi ma potete giurarci che lo avrò presto e che vi bombarderò anche con quello no scherzi a parte è interessante vale la pena approfondirlo e studiarlo così perché ne va la pena è un negli nft ecco è uno degli utilizzi concreti che riesco a capire questo è quanto non vi scillo nulla e quindi poi andiamo avanti con alfa omora caspita notizie tantissime però ho quasi finito giuro alfa omora su avalanche è sbarcato su avalanche questo però è su ethereum per quale ragione perché sicuramente ho connesso metamask a ethereum vediamo avalanche ok non interessante secondo me perché ci sono solo pool alfa omora e il farming in leva per chi non lo sapesse ci sono soltanto pool con dentro avax per il momento quindi siamo ancora un po in una fase iniziale che dire gli api gli api sono sicuramente interessanti ma avax usd insomma parliamo un po di impermanent loss anche quindi per me è ancora no personalmente la parte urna quindi il landing non è neanche questo particolarmente gustoso quindi 15 per cento sulle stable c'è di meglio c'è sicuramente di meglio ve lo condivido e basta poi valkyrie lancia anche lei un etf su bitcoin fine della notizia adesso arrivano gli altri scherzi a parte ce ne sono 5 o 6 in arrivo sono tutti sottostante future se ve lo state chiedendo e poi arriveranno prima o dopo anche quelli sottostante spot presumo perché sono tutti li in coda con la sec che deve dire sì o no e oppure rimandarli di nuovo quelli coi fio sui sui future come sottostante credo che andranno tutti in luce verde valkyrie è il secondo il primo tra l'altro quello che è uscito pochi giorni fa ha battuto qualsiasi record veramente ha fatto numeri folli i volumi folli superato quello dell'oro al lancio cioè che loro l'etf sull'oro è stato quello più scambiato nella storia e quello di bitcoin ha battuto quello sull'oro pensate un po cosa penserà peter schiff poi nuove dinamiche di tokenomics su bnb nella bet 95 una proposta di modifica appunto del protocollo binan smart chain verrà incluso un burn delle gas fee pari al 10 per cento quindi in sostanza simile a quello che accade su ethereum con le ip 15 59 verranno bruciate il 10 per cento delle gas fee pagate in ogni transazione e questo lo rende meno inflattivo sicuramente è una cosa positiva per la tokenomics di bnb poi ultimissimissimissime cose giuro qua c'è una statistica che vi butto lì che è veramente insignificante perché la statistica è un'analisi del passato però storicamente dopo aver rotto gli all time high bitcoin ha sempre performato benone nei successivi come dire mesi giorni nel periodo successivo non nell'immediato chiaramente in media ha fatto il più 145 per cento quindi vediamo nel prossimo ciclo rialzista sperando che ci sia incrociamo le dita che non sia un fake out adesso tra poco ci arriviamo con i grafici a guardarlo però se così fosse ok quindi avremmo la statistica dalla nostra parte altrimenti sarebbe la prima volta che avrebbe un altro ciclo ribassista vediamo bevo un po di acqua ghiacciata perché mi sto sto diventando troppo bullish è una delle contromisure che sto prendendo perché a volte mi faccio prendere dall'essere bullish e allora niente mi raffreddo un po gli animi ultima cosa ftx ha raccolto un altro investimento da 420 milioni di dollari ed è stato valutato 25 miliardi notevole ftx veramente sta spingendo sempre di più è pazzesco quello che sta facendo e basta questo è quanto adesso chiudo tutto e lascio la parola a voi lo giuro perché ho parlato veramente veramente troppo allora via con le domande ma che bomba è ice assurdo sono d'accordo perché ice cioè la coin di popsicle il token di popsicle non so come sta andando a dir la verità e ho come l'impressione che sia follemente iperesteso però è una revenue share sul protocollo popsicle che potrebbe veramente generarne tanta di revenue veramente veramente tanta vediamo un po qual è il suo andamento attenzione attenzione parabolico parabolico assolutamente parabolico benissimo no è cioè intoccabile per quanto mi riguardi intoccabile però vale la pena seguire il progetto popsicle questo non me lo toglie sicuramente dalla mente poi allora 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 finalmente prima live per me perché a quest'ora devo sempre fare il bagnetto a mia figlia di tre anni stasera non la lavo ma almeno salutami fantastico allora io assolutamente matteo ti saluto sei un grande però ti prego vai a lavare tua figlia poverina altrimenti poi va a finire che che le fai odiare le cripto ancora prima di conoscerle poi quando sarà grande guarda il papà non ti lavava perché dovevo guardare la live guardare i grafici no comunque grande matteo sei il numero uno e dunque cosa ne pensi di harmony one me la devo studiare ed è uno dei layer one che ho scritto proprio qua nel mio fantastico taccuino dei compiti a casa da da analizzare nei prossimi video della sezione ricerca della della serie ricerca no ieri abbiamo visto mina e così via ciao luca quindi con 90 milioni di luna bruciata il prezzo cresce attenzione non vuol dire non vuole assolutamente dire perché insomma è un il prezzo è dato da domande offerta ok cosa vuol dire vuol dire che se bruciano tutti l'una fino all'ultimo e nessuno compra e il prezzo rimane comunque lì ok ho fatto un esempio estremo quindi non vuol dire assolutamente niente si riduce l'offerta col burn ma anche se era nel community pool comunque era fermo lì quindi non c'è molta differenza però sicuramente si incrementa la supply di ust ciao zone ci sono tante novità quindi assolutamente è una notizia positiva per il lungo termine però poi miglior modo per andare in staking senza impazzire in modo facile ma guarda dipende tanto dalla coin perché lo staking che ne so se lo fai di una coin che il cui wallet nativamente ti fa cliccare stake e tac allora non so cioè è veramente più semplice di così si muore alcune sono un po più complicate tipo mina mina visto che ne abbiamo parlato ieri è un po più complicato perché devi mettere in stake tutti i mina che hai in una volta dal wallet e così via ti viene voglia di farlo dall exchange che però non è il massimo perché centralizzi in questo modo idealmente fare staking andrebbe fatto dai wallet però purtroppo non è particolarmente facile talvolta e quindi viene voglia di farlo dall exchange poi puoi fare un approfondimento su wonderland money per favore non so io cosa volete fare maledetti io ho detto non ne parlo più perché poi vanno a finire tutti i degen ci si buttano dentro e poi succede un casino magari lo facciamo dai un approfondimento me lo tengo lì che cosa è successo a crypto.com allora crypto se se intendi il discorso della chiusura dei derivati e del lending eccetera eccetera te lo spiego bene allora ciò che ha successo impatta i servizi di crypto.com exchange quindi no app l'app continua a funzionare come ha sempre fatto con tutto ciò che ha quindi comprare vendere earn la parte earn la rendita è assolutamente disponibile la carta è disponibile lo staking è disponibile non cambia nulla sull'app ok quindi l'app si continua a usare come sempre l'exchange non si può più utilizzare i futures i perpetual quindi quelli in leva il margin trading sempre in leva e il land il borrow scusate il loan che vuol dire collateralizzare crypto per prendere in prestito altre crypto quindi faceva parte un po della sezione margin trading perché così facendo si può andare in leva questo per motivi di compliance presumo un po come è successo a binance per capirci ok quindi non ci sono normative ben chiare in italia e alcune piattaforme per non lo so timore forse di fare errori poi in futuro dicono guardi io voglio essere assolutamente in regola e quindi questi servizi per ora non li offro poi quando ci sarà quando sarà il momento li si potrà offrire comunque questo è ciò che impatta sull'exchange potete comunque comprare vendere spot sull'exchange e potete assolutamente anche usare il soft staking mi pare che si chiami questo è ciò che è accaduto poi non so come vi possa piacere la defy incasinata come non mai guarda se non farmi non puoi capire che cosa come fa a piacerci la defy provare per credere vedrai che piacerà anche a te quando supererai la il primo ostacolo però però amici miei preparatevi perché arriva il corso di defy e non è che adesso non ve lo faccio più lo sto preparando strutturando lo voglio fare per bene e ve lo pubblicherò su youtube gratuito quindi sarà per principianti per tutti per aiutarvi ad avvicinarvi proprio alla defy stessa quindi state sul pezzo seguitemi iscrivetevi al canale non perdetevelo attivata anche la campanellina ragazzi fondamentale la campanellina poi dunque dunque qua mi state bombardando di domande non ho neanche il tempo di guardarle che mi scattano sopra allora yuki il tutorial sulla defy arriva amici miei arriva su terra station ho passato il una in bluna ma non posso mettere l'incollaterale per il borro perché non ho gli ust per le fi no l'unica cosa da fare è portare nuovi luna sul wallet e convertirli in ust e dunque puoi cambiare una parte di bluna in ust su terra swap e però non so se li no lì forse puoi pagare le fi anche in bluna aspetta fammi vedere terra swap allora se non ricordo male da bluna a no da bluna a luna mi spiace da bluna a luna e poi da luna ust e si è così non c'è altro modo devi fare due giri però di buono c'è che le file puoi pagare appunto in luna o no però tu non ne hai più di luna adesso mannaggia no senza senza luna potrebbe essere un po un casino sai senza luna potrebbe essere un casino mi sa che ti tocca portare ancora un luna e e basta portare un luna e cambiarlo in ust e pagarci le fi qualcuno ha altre soluzioni no ditemelo perché mi sto impanicando mi sembra mi sembra di no mi sembra di no allora ciao luca potresti analizzare il grafico di dot assolutamente assolutamente dot btc allora guardatelo come bello carico dot che si avvicina qui ai 70 80 mila scusate 7 8 mila sat nonché resistenza principale se la rompiamo qua ci sta tutta l'entry sul retest e molto molto ben messo perché abbiamo un canale ascendente come insomma macro e poi abbiamo una resistenza vedete qua proprio in mezzo però abbiamo fatto questo low qui poi qui e qui abbiamo degli higher low e adesso sembra esserci proprio tutta la carica che serve per andarla a bucare quindi quello è il livello che sto tenendo d'occhio poi questo è un periodo di come dire positivo lato lato proprio fondamentali per dot quindi potrebbe valer la pena tenerlo ancora più d'occhio poi si può comprare ust direttamente su ancor è vero però ci sono un pelo di fia mi pare se tu intendi da transac fammi vedere ancor allora un attimino un attimino un attimino allora vediamo by ust bitfinex coin transac con fiat sì però ci sono delle fi non credo che sia credo che sia finita la fase promo con cui potevi comprare ust con in euro senza le commissioni di transac ora secondo me tornate sono tornate quindi non conviene granché dunque 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 o mamma mia ma ma finiva il 17 ottobre su transac esatto ciao luca gli ethereum da mettere su ancor danno il 5 per cento all'anno in et o al mese non sono un po pochi in che senso gli et da mettere su ancor cioè dici gli st et gli st et danno il 5 per cento circa l'anno ma se li metti su ancor non te lo danno più e attenzione perché li bondi quindi è un'altra cosa cosa ne pensi di solana puoi analizzare il grafico o si vainas ha pubblicato la page di trading spot per btc ust davvero questa è una novità è dov'è 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 questa è gigante come cosa ma è già cioè scusa non l'ho letto da nessuna parte come come fai a saperlo tu come fosse dove trovate queste notizie mannaggia voi no dai non non credo cioè avrebbe avuto un po di risonanza immagino fiat qui non c'è nessun ust per il momento btc no per il momento non lo vedo però se qua togliamo la d cosa esce no maledetto mi vuoi mi vuoi mandare in fomo mi vuoi trollare mandare in fomo è lo so io è che vuoi fare questo allora secondo te quante sono le probabilità che venga approvato le tf spot di grayscale secondo me sono molto alte molto alte ti dico la verità perché se c'è qualcuno che ha le credenziali per fare il primo etf proprio grayscale che ha già il suo fondo regolamentato e tutto quanto e soprattutto alla come si dice la credibilità non necessaria ne ha parlato dan qr di ust su binance allora la cosa diventa già più interessante vedremo 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 io finché non vedo non credo ragazzi oggi è uscita una notizia di e gold del dex che sta arrivando che ne dici di dare un occhio al grafico sta arrivando il dex di elrond vediamo il nostro twitter la fonte numero uno di notizie per eccellenza cosa ci dice di bello allora dov'è 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 mi faccio distrarre poi scusate dunque elrond cosa stavo cercando va bene adesso mi bannano il live sicuro e ok slonchink in november bravo bravo benjamin complimenti non vedo l'ora andiamo a vedere allora questo grafico 11 per cento è benissimo benissimo elrond tra l'altro ha tenuto una un ottimo trend guardate il macro non è affatto male e vi dirò di più vediamo il settimanale ok se c'è un bel engulfing bullish settimanale un recupero di due resistenze tac tac ok vedete se poi andiamo a fare una cosa del genere non sarebbe anche malaccio teniamo d'occhio teniamo d'occhio anche perché non vedo l'ora di vedere il dex e di vedere soprattutto le opportunità che da vediamo vediamo devi rispondere a solana hai ragione e mi ero un attimino perso sono andato in overflow solana mamma mia ma c'è qualche ragione per cui solana sta spingendo così a parte il mio pac ovviamente non lo so però guardate c'è anche un setup long volendo setup long perché abbiamo fatto pam 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 tre candele verdi con volumi con reclaim di quest'area questo cluster qua quindi questa zona volendo può essere un un'area 28 30 mila un'area dire test non male sperando adesso che vada un attimino a respirare prima di ripartire non abbiamo ancora layer high se facciamo anche layer high vabbè cambia un attimino la struttura c'è da rivedere gli entry però inutile dire che sul lungo termine rimane una struttura molto bullish e insomma io lo sapete non ho mai cambiato idea su solana nonostante i problemi che ha avuto ve l'ho condiviso anche varie volte con con i dovuti con le dovute motivazioni poi analisi di one oppure atom andiamo a vederli entrambi partiamo da atom in ordine alfabetico allora atom atom ri ri tracollato giù dopo il insomma layer high brutto è questo tra l'altro pam 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 tre candele rosse una dopo l'altra e adesso un attimino di respiro qua in zona 5500 che è un po la il supporto no che al momento aveva però non lo allongherei neanche per sbaglio qui perché dopo una punta del genere insomma mi sembra veramente bruttino come grafico quindi assolutamente no mentre harmony one eccolo porco cane anche lei lui lei comunque sia spinge spinge parecchio e abbiamo guardate tac 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 higher low i massimi finora sono qua andiamo a metterci anche una bella tac un bel segno giallo settimanale c'è anche lui c'è anche lui quindi benissimo per questa zona e volendo addirittura si potrebbe improvvisare proprio un trade aggressivissimo sul retest qua sopra stop loss sotto alla candela di generazione e poi eventualmente per puntare al come si chiama al layer high ok quindi al per fare una specie di posizione trend follower però una posizione intraday quindi occhio a non farsi del gran male perché l'intraday va saputo utilizzare ecco e poi ultimamente sto diventando pazzo perché utilizzo e che non ci sono ci sono più coppie adesso ma non tuttissime utilizzo prime xbt per l'intraday quando giochichi un po con l'intraday perché non ci sono cioè ci sono i cfd quindi non ci sono i funding dei perpetual e le fee sono bassissime 0.05 e invece utilizzo ftx per l'operatività diciamo più come si dice più normale no swing di medio termine poi utilizzo binance per alcune al coin quindi una follia tra mill exchange che veramente a volte ne esco pazzo comunque torniamo a noi torniamo a noi dunque 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 dove dove siamo finiti allora come si utilizza prime xbt guarda ci avevo fatto un video un po di tempo fa tutorial quindi se lo cerchi lo dovresti trovare e si scrivi proprio prime xbt tutorial dovresti dovrebbe uscire nel video del tuo portafoglio non parli mai di take profit volevo chiederti se ogni tot prelevi una parte dei guadagni per le spese ordinarie no perché quello è il portafoglio investimento quindi le spese ordinarie io le tengo da parte quando diciamo arrivi no che hai le tue entrate che può essere lo stipendio le tue i tuoi redditi insomma li porti dentro e li dividi in due da una parte il tuo budget per le spese quindi la liquidità pronta all'uso sul tuo conto e dall'altra parte la parte da investire che ovviamente deve essere seconda alle necessità non è che se devi se hai delle spese non lo so le bollette il bollo dell'auto la benzina andare a mangiare fuori l'asilo del figlio non lo so cose del genere che non è il mio caso però un esempio e allora quelle chiaramente sono spese prioritarie e vengono prima dell'investire non è che non mandi all'asilo tuo figlio per investire su anchor o in o andare all in su shiba inu e quindi le tiri via il budget che ti rimane lo metti nel tuo portafoglio investimento cioè quello che faccio io e poi lo distribuisco con i miei piani d'accumulo e quant'altro non faccio dei veri e propri take profit ma ribilancio io ho la mia metà in liquidità come sapete e quindi ogni mese che vado a ribilanciare se come si dice se un asset che possiedo pompa molto di fatto è come se facessi take profit perché poi vado a ribilanciare riportandolo alla percentuale originaria vendendo una parte in liquidità e così via questo è il questo è l'approccio che tengo che non è per forza non è il santo grallo ok cioè ha dei difetti anche questo approccio perché non fai compounding ad esempio ribilanciando però è quello che piace di più a me ok quindi io io ragiono in questo modo questo è il motivo per cui non penso al take profit cioè l'investimento è un qualcosa di non orientato al profitto no il profitto inteso quindi in euro in dollari è un qualcosa di speculativo per definizione cioè io non investo in cripto in bitcoin per andare a fare profitto per avere più euro ok non mi interessa mi interessa prendere la liquidità che non voglio avere in euro in liquidità a marcire a subire l'inflazione ma voglio metterla in un asset dedicarla in un asset allocarla ad un asset che per me può aumentare di valore nel tempo cioè in ogni momento della mia vita diciamo io voglio avere il mio capitale allocato agli asset che per me in quel momento valgono di più in assoluto con percentuali predefinite e questo è la struttura del mio portafoglio phantom phantom all time i boh sta volando phantom qualcuno ha detto phantom che cosa sta succedendo su phantom perché sta volando così ma io non lo so io non lo so andiamo a rivedere anche phantom vediamo andiamo a vedere phantom vediamo che succede qua che succede qua niente pompa e basta pompa e basta acqua fredda in arrivo non ne possiedo neanche uno ah c'è una conferenza a dubabo non lo so ragazzi non so veramente cosa dire molto bullish phantom però è niente da dire molto bullish all time i in dollari però perché in bitcoin non ancora ma quasi hai ancora un pelino di strada da fare tra l'altro guardate come ha mamma mia cioè questo retest è stato da manuale incredibile ci ha fatto il reclaim pam qua del della resistenza poi è un attimino stornato retest pulitissimo e vola cioè sarebbe assurdo troppo bello per essere vero quasi non lo so comunque bene bravo phantom bravissimo phantom poi dove siamo finiti dove siamo finiti allora ma il portafoglio investimenti te lo porti fino alla tomba guarda fino alla tomba l'idea è a lungo termine cioè io spero non ho intenzione di usarlo per comprarmi un'auto cioè non lo so io a me non interessa sinceramente neanche cioè a un certo punto non sono non è capitale che è lì per essere speso cioè quello è l'obiettivo la domanda da farsi poi qui si va anche un po off topic forse quando erodere il capitale nel senso noi tutti immagino abbiamo un po un capitale investimenti da parte no quando è che è il momento di utilizzarlo anzi vi faccio anche a voi la domanda proviamo a rifletterci insieme cos'è che vi spingerebbe a utilizzare il capitale che avete messo da parte accumulato investito e trasformarlo in liquidità e spenderlo cioè spese impreviste ovviamente delle cose che servono chiaro però non mi viene cioè non non saprei non saprei proprio sinceramente cioè per per le spese ci sono i c'è il cash lì che è lì per quello insomma potresti fare una piscina di monete per andare a farci il bagno manco quello con le cripto tra l'altro si può fare acquisto casa beh la casa ad esempio è un investimento immobiliare anche quello se lo si vuole vedere così chiaro che la casa è insomma anche lì si aprirebbe un dibattito no la casa acquistare non acquistare la casa al mare anche questo potrebbe essere visto anche come un investimento oppure come un osfizio poi ognuno deve deve fare quello che si sente no non è che uno deve sempre investire tutto e basta l'idea di investimento per me appunto un tesoretto anche da tramandare poi al futuro a chi verrà dopo di me a un patrimonio no da avere lì che come dire dà sicurezza e viene utilizzato poi per per le necessità eventuali per le spese da affrontare o comunque per avere una rendita in più per rendere anche più libero spero i miei futuri figli o chi comunque verrà dopo di me ecco questo è un l'idea e quindi niente questa è un po l'idea l'idea che avevo insomma non te li godi ma no cioè non è quello non è che mi non mi faccio mancare niente in realtà anzi a volte mi sembra anche di esagerare però l'idea non lo so di strafare no di quando hai dieci cioè quando hai cento voler spendere cento per per avere non lo so l'auto top la casa top cioè gli oggetti alla fine non ti lasciano molto non lo so io almeno la vedo così una volta che poi ce l'hai no che vuoi una cosa la ottieni vuoi un'altra la prendi arrivi a un certo punto no che il denaro diventa una schiavitù quasi se la vivi così se vuoi sempre di più per avere sempre di più è sottile no la linea tra il goderselo e il diventarne schiavo e sarebbe un tema interessante di cui di cui parlare assolutamente sì sarebbe sarebbe bello allora spero che kiyosaki non stia guardando la live la casa non è un investimento dipende 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 assolutamente cioè può esserlo e può non esserlo io non la vedo così esattamente cioè dipende da tantissime variabili da che cosa ce ne fai da che prospettive hai da da dove si trova chiaramente perché se ovvio che se uno acquista una casa in un posto che ha poco mercato sovrapprezzata non sarà mai un investimento se invece si trova una situazione differente lo può diventare anche se ci vivi dentro e lì sono sono punti di vista insomma non bisogna mai neanche dare dare per però roccolato quello che dice kiyosaki perché sono insomma non la penso esattamente come lui su tutto sinceramente ma ripeto andremo off topic poi andrei parlerei ore e ore di cose che magari di cui non ve ne frega niente magari ne parleremo in una live o un video a parte tematico lioco quanto fai di bicipiti ci voleva questa una domanda per spezzare un attimino tutta sta serietà in realtà vi dico un segreto non li alleno quasi mai perché io preferisco gli esercizi cosiddetti fondamentali tipo i multi articolari panca squat stacchi trazioni e così via quindi non ti so rispondere perché di curl di bicipiti non lo faccio veramente da una vita e quindi adesso dopo questa bellissima e che poi la fortuna di kiyosaki è data per la gran parte dei investimenti immobiliari che possedeva tra l'altro ragazzi l'immobiliare è un mercato vecchio come il mondo cioè è inutile dire che non vale niente è un mercato difficile perché va studiato è meno liquido e ci sono molte più variabili no non basta guardare un grafico chiaramente a studiare i fondamentali bisogna conoscere le zone magari avere qualche insight muoversi e sapersi muovere bene e così via e quindi è un mercato per pochi molto per pochi secondo me se la persona media va a cercare una casa che magari qualcuno ti fa sembrare un affare poi non lo è chiaro è che bisogna sapersi muovere io non so muovermi ad esempio ammetto l'ignoranza che ho nel mercato immobiliare sono molto ignorante a riguardo mi piacerebbe tra l'altro studiarlo lo studierò anzi perché è uno dei mercati che conosco meno detto proprio con sincerità però se mi immagino comunque un patrimonio di un certo tipo cioè mi fatico a non immaginarmi una diversificazione anche con un'allocazione in immobiliare veramente faccio fatica perché non includerla non non me lo immaginerei e bene benissimo benissimo mi gioco l'ultimo evidenziato qual è il modo migliore per mettere in farming luna ora che ancor paga molto poco pensi possa convenire lo stake per farmare qualche airdrop su luna allora lo stake adesso con questo burn potrebbe essere interessante altrimenti andiamo a vedere su terra swap che c'erano anche qua degli apr interessanti non so se ci sono ancora vediamo luna ust 36 per cento però in permanent loss altrimenti con luna luna bluna no niente di che 5 60 meglio lo stake allora perché conta che con lo stake hai anche i genesis airdrop che sono quelli che ti airdroppano il giorno 1 no quando un progetto lancia agli staker di luna di solito viene dato un airdrop e quindi se uno è abbastanza come dire focused sul mondo terra ci può stare non sono non è mai successo che questi airdrop fossero cifre folli e di solito sono abbastanza contenuti però come dire non si schifano di sicuro al momento forse cioè tu considera che allora bluna dal col borro ai 1 per cento quindi trascuriamolo long to value mettiamo del 30 40 tu avresti il 20 per cento di earn con gli ust che vai a generare dal borro moltiplicato per 0 e 3 si non è non è proprio un granché forse a sto punto potrebbe convenire eh sì mi sa che mi sa che conviene lo stake ora come ora col borro così basso mi sa di sì a meno che uno non voglia investire a lungo termine su hank che allora gli le ricompensi in hank gli pesano comunque io vi avevo promesso un'analisi dei grafici e io le promesse le mantengo quindi andiamo a vedere i nostri graficozzi perché qua sto bitcoin comincia a non convincervi più tanto eh no sto scherzando ovviamente devo fare un po di clickbait anche alla fine non è più forte di me ragazzi è più forte di me non so cosa farci e quindi 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 innanzitutto grazie a tutti coloro che si abbonano si sono abbonati ricordo sempre che con amazon prime potete farlo gratuitamente ma dovete rifarlo ogni mese mi spiace però grazie perché per me è una piccola donazione per voi a costo zero e adesso andiamo un po a vedere cosa succede allora succede che l'ultima leg up purtroppo è stata assorbita e questo non è un bellissimo segno è iniziale tac tac subito quindi abbiamo una piccola punta che culmina appunto con l'all time high quindi qua diciamo ci sono stati un bel po di shorter ci sono stati un po di bear che hanno sfruttato la liquidità che c'era qui sopra vedete qui sopra in particolare è stata triggerata gli stop una cosa e l'altra e ci hanno dampato l'hanno sfruttata per damparci candela di ieri engulfing bearish come vi dicevo oggi bearish retest sembra anche tac qua sopra e chiusura ancora in rosso quindi attenzione al settimanale innanzitutto perché ve l'ho detto è importante capirlo e attenzione all'approccio con questa area perché se l'andiamo di nuovo a perdere e insomma vedete che iniziamo a perdere un po terreno ok allora facciamo un passo indietro prima che mi accusiate di fare il gufo e l'orso della situazione questa è la classica situazione in cui si è bullish fino a prova contraria io dico bullish perché abbiamo fatto comunque un equal high ok sia un higher high in teoria ma chiamiamoli equal high perché questo 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 e questo bene o male sono tutti vicini tra loro quindi la zona è sempre la stessa equal high dopo uno storno gigante e questo movimento qua quindi adesso magari potremmo anche andare a ritracciare e fare una cosa del genere che saremmo sempre lo stesso bullish ok per questo dico bullish fino a prova contraria la prova contraria quale sarebbe la prova contraria sarebbe fare un lower high ad esempio se andassimo a fare non so una cosa così poi tac così facciamo il lower high qui si indebolisce un po la struttura però non è ancora bearish è un po più indebolita e basta se andiamo a fare adesso facciamolo ancora tac lower high e poi lower low e si indebolisce ancora di più se andiamo a fare un lower low rispetto a questo la cosa scala di un livello ok quindi diventa un attimino ancora più compromessa diventa una struttura non più così bullish come prima ma fino ad allora cioè capite bene che è difficile trovare del bearish qua dentro ok quindi attenzione a non farsi ingannare dal dal fatto che abbiamo due candeline rosse cioè non vogliono dire nulla nulla di nulla è una reazione locale esattamente con l'approccio dei massimi con la liquidità che ci si trova sopra che non dice altro che la liquidità che lì è stata usata per shortare un po e adesso i bull devono farsi valere e spazzare via chi ha shortato lì perché l'intenzione mi sa che c'è i supporti ve l'ho detto i più prossimi sono sul settimanale abbiamo questa zona molto importante se la perdiamo non si grida al disastro perché poi qua sotto abbiamo 51 53 mila che altrettanto valida quindi attenzione a questi due livelli perché potremmo volendo anche fare una specie di bull flag del genere e poi ricontinuare a rialzo sta di fatto che insomma abbiamo una un macro assolutamente rialzista da un punto di vista della ricerca di posizioni quindi si potrebbe andare a valutare tutta una sorta di entry distribuiti qua sotto ma anche volendo arrivando fin qua cioè siamo in un'ottica ripeto di bullish fino a prova contraria la prova contraria possiamo dire è il lower low qua sotto quindi io da proprio ignorante totale posso dire io accumulo in questo range e va metto il mio stop qua sotto questo è trading speculativo attenzione non è investimento è trading e soprattutto questi non sono mai consigli finanziari pensate con la vostra testa queste sono solo analisi e idee che condivido come mi vengono in mente con voi quindi questa zona con stop loss qua sotto è la trasformazione in operatività dell'analisi che abbiamo fatto ora ok quindi niente di più niente di meno e basta non mi viene in mente altro perché shortare è sicuramente poco sensato a mio parere visto come siamo impostati lato macro e poi il resto dell'operatività invece è un'operatività più spiccia più intraday più aggressiva quindi cose meno come dire meno più più per pochi ecco questo è un po il discorso andiamo a vedere il resto dai il resto la dominance ha fatto questa piccola flessione quindi attenzione allo scenario che dicevamo di possibile range della dominance ok i due scenari sono bottom oppure range e adesso per il momento tac 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 sembra range tant'è che non so se ci avete fatto caso guardate come il grafico della dominance si sposa bene con le alt non so se ci avete fatto caso ma grafici come solana guardate solana che ha fatto il suo reclaim tac tac ethereum cosa fa ethereum guardate cosa fa pam pam w e adesso potrebbe rompere grafici come luna che di fatto ha fatto un po di candele tac rimbalzando qui sullo e potrebbe rompere questa zona vedete come si muovono tutte all'unisono no quando la dominance da un piccolo segnale le altcoin all'unisono mostrano strutture che accompagnano un po l'idea di quel segnale lì e questa è una cosa da tenere d'occhio perché adesso con da una parte il discorso del possibile range sulla dominance quindi attenzione agli approcci successivi con le medie mobili e quant'altro dall'altra parte con le strutture che ci stanno dando alcune coin capite bene che abbiamo il setup e abbiamo l'impostazione di trend entrambi a nostro favore quindi diventa più appetibile la posizione stessa amici ho finito di annoiarvi con questo perché ho parlato tantissimo oggi e questo è quanto direi io quasi quasi vi saluto e vi auguro buon weekend o no non abbiamo nient'altro da dire luca ha sfiorato ha sforato l'ora è bullish hai ragione ragazzi io io e le tempistiche e gli orari siamo veramente due cose differenti completamente differenti e basta tanto il video sarà bannato no adesso schilce chiudo completa censuro completamente quell'immagine perché altrimenti mi va no poi era coppè poi scusa se è su twitter porco camma soprattutto perché qualcuno mi spiega perché mi è comparsa nel feed cioè non fatevi strane idee e basta dai ragazzi vi faccio un saluto un carissimo saluto fatti bravi teniamo d'occhio bitcoin in particolare la chiusura settimanale noi ci vediamo la prossima settimana lunedì alle 18 30 come sempre in live e che dire se vi ricordo che è disponibile da un po ormai sta avendo molto successo mi fa piacere il nostro servizio di formazione one to one dedicato a chi non ne ha abbastanza di tutti i contenuti gratuiti e vuole magari chiarire quei piccoli dubbi che ha oppure fare le cose insieme a noi essere seguito da uno del nostro team perché ha dubbi per non sbagliare eccetera 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 però ripeto è dedicato è una formazione di alto livello è pensata per essere più tecnica più dopo aver studiato i contenuti gratuiti credo che per il 99 per cento di voi i contenuti gratuiti vadano più che bene ma purtroppo in un video può essere dettagliato quanto si vuole non si potrà mai rispondere alle domande di tutti e quindi questo nasce proprio per coprire anche quell'area che al momento non è coperta e cercare di offrirvi il meglio davvero ve lo dico con sincerità vi faccio un carissimo se se vi interessa potete come dire richiedere info all'email che ogni tanto vi gira qua nella chat e vi lascio in descrizione sul tubozzo buona serata buon weekend ci vediamo lunedì alla prossima ciao